Questo forse è quello più facile da fare perché è quello più facile con la torcina è molto buona qua è 45 quindi faccio 22,5 22,5 razzirio napolam проще è più facile perché sai cosa è che dopo ovviamente dopo 12 часов lavoro già si spavano so scopo io in 3 ore ho già fatto e вчora io spavano solo 3 ore Grazie a tutti.